Vabbè, quindi... Volete che proviamo a morire subito, ragazzi? Dove vuoi andare? Vai, vai! Sì, 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 dai! Bello, bello, tre! Io in coda! Io locomotiva! Ah, io cerco di prenderlo! Due vado vado e non ci sarebbe già un successo! Stai avendo visto la gassa, ragazzi! Ah, sì, ce lo so! Tu vai, lui! Vieni qua, Roberta, che facciamo il contratto! Eh, dove è? Ah, lo stavo cercando! Io ho la gassa, dico, vado! Buon, buttala! Vieni qua! Ok! Qui poi possiamo ricaricarci di nuovo! Io resto nel vagone dove ripompare poi il... Allora! Vieni, se volete! Ecco, eccola qua! Davanti, davanti! Andiamo davanti! Sì! Attiva l'ora, prima che fai il fascio di luce, l'ora! Che renda dietro il fascio di luce, capito? Come erano già dentro! Ok! Qua, troveremmo qualcuno che cerca di salire adesso! Chiudea military paint! Eh, lì ci dobbiamo muovere subito! Posa, ragazzi! Sparano? No, sparano! Oh, ho aperto! Dai che siamo sotto... No, tanto che siamo sotto al tunnel! Tranquillo, non ci credo! Veloci! Sì! Buona! Che ne dici se scendiamo? Io ne farei ancora una! Vai! Cassa di munizioni, ma che non sarà da cassa adesso! Uh, qua ora siamo a rischio! Veloci? Siete sicuri di voler continuare? Sì! Bene! Grazie! Anche perché il treno si riporta in... in safe! Io so proprio dietro se ne stare qualcuno eh! Ok, dai! No, non siamo accanto al carello! Volendo che siamo pure escendo! Al nostro carello! Ok, sappiamo esattamente dove dice! Uh! Sezione ex qualcuno nella macchina che vedete! Uno è qualche a terra! Sassaleggio uno! Sassaleggio uno! Davanti da voi! Ok! Uno viene a terra! E lo faccio! Trovo! Uno a terra! Nooo! Ma ha fatto con un cecchino da davanti! Sì! L'ho visto! No! Ma non è possibile! Ma come hanno fatto! Dall'altro lato! Grande! Bravo! L'abbiamo visto in diretta! Gli hai fatto il culo! Credi dove chiude! C***o! Ho arrivato qui! Dove... Ah è lupa! Vado lì io! Andiamocene verso dove chiude! Dai! Non tra i cazzo! Speriamo! Ragazzi! Arrivo! Bene! Siamo... Siamo bravi! Siamo bravi! Gullager! Tu mi fai un po' le piazze ragazzi eh! Le prendo io! Hai anche tu i soldi! Sì! Da dietro! Sì! Mi metto a riparo! Che palle! Oh! Andiamo! Probabilmente quella casa lì! No! C'è solo la nostra qua! Occhio che ci sono i cecchini! Madonna mia che brutta roba! Non c'è un posto dove nascondersi qua! Eh! Ci possiamo ci spugliare! Oh! Lì! Guarda! Eccolo lì! Ma dove? Ce n'è un altro qua! Un altro qua! Sopra il muro! Pinga! 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 Pinga arancio ragazzi! Io li lascerai fightare tra di loro! Allora si buttano giù a vicenda! Uno l'ho ucciso! Però non ho più colpi! C'è l'altro qua di spalle! Luda! E adesso che fai? Eh? Adesso ho fatto team wipe e quindi potete venire qui a luttare! Bravissimo! Ma guarda quello che ho ucciso io! Stefano io sparavo perché sapevo che c'era il Luca che andava! Il Luca che li faceva fuori! L'ho buttata un po' lì però ho trovato uno che restava l'altro e quindi non sapevo dove era l'altro che hai fatto! Credo che fosse quello che era a terra! Oh c'è uno c'è uno la tenda lì attenzione! Non mi ha visto non mi ha visto! Ok ok! Lo faccio lo faccio! Fatto! Bravo! Timo è nient'altro vado a luttare! Buono vai a luttare allora! C'è questa casa! Prendiamo la casa! C'è quella casa lì da dove forse sparavano prima! Da dove sparavano prima però! Eh sono andato ma non c'era nessuno! Ah ok! Allora andiamo! Losto la casa non ti va al genio! No ma le case mi fanno paura! Allora ragazzi io vado nella casa che se c'è qualcuno... Ok! Ma se tagliamo la destra al torre compro una gassa di munizioni? Per me va bene! Qui si muore da eroi! A me non moriamo sparando! Moriamo sparando! Come da eroi cazzo! Allora ho una mina e la metto sulle scale! Io ne metto una davanti alla porta! Io ne metto una qua! Davanti a questa porta! Mina anticarro piazzata! Adesso difendiamo forti nostri! Difendere con le unghie e con i denti! Luca RPG ho visto le buttate a terra! Yes! Ti spiavo! Tre ne ho! Ti guardavo i colpi capito? Eh! Io mi guardo questa finestra qui eh! Io mi guardo questa perché c'è la strada con le RPG! Io sono quello che muore la finestra di legno senza vetri! Del cecchino col termico! Eccolo là ce n'è uno! A me è meglio pure neanche gli spariamo e stiamo lontano! Ma sei fuori! Fermi i mobili! Ragazzi guardate le kill! Due! Due e due! E faccio un'osservazione! Siccome la mia finestra non ha il vetro nel momento in cui provassero a usciarci o qualcuno fa saltare la mina sulla scala io mi butterei giù che non se ne accorgono e faccio il giro da dietro! E li ha massi sui tre? Cosa ditte? Mi sembra un ottimo piano Bertals! Poi se riesci anche a realizzarlo sarebbe una roba veramente da fuoco! No! Ho resto qua arroccato! Io stavo dicendo un'altra cosa! Basta che poi ti svegli! Perfetto! Che è ora di andare a lavorare tipo! È ottimo! Rischiamo di sacrificare uno dei tre che però magari ne faccio due morte! Però ci mettiamo d'accordo che se tu scendi dalla finestra noi scendiamo pure dalla scala! Scendiamo tutti e a chi vedo vede! Ma loro saranno là che cercheranno di venire su! Cioè va benissimo questo piano del Bertal mi piace tanto! Anche perché muore il Bertal in questo piano! Lì uno ci può stare però devi sempre valutare il fatto che a 246 hai la montagna! Domanda! Quando arriva l'Inferno dell'Open si spara o no? Dipende dalla distanza e dalla valutazione di possibilità di successo! Ok! Dai ragazzi c'è una macchina! Me lo date l'autorizzazione? Ti esplode sul vetro eh! Fermi lì! Guarda! 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 Peso uno! Chi è che mi dirà su? Terra uno! Io 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 io! Ecco! Alla faccia del nostro piano per non farci coprire! Sì sì! Adesso ci pushano! Adesso non siamo in piano! Eccolo! Nooo! Che è che c***o! Spuccio! Dietro il camion arancione! Vabbè! Non ho capito che hai rimesso lei! L'avevo fatto blu! Nooo! Non li vedo! Non li vedo! Non li vedo! Terra uno! Morto! Mi hanno ritirato giù l'altra volta! Io non li vedo ragazzi! Io neanche! Siamo coprati! Scusami per prima! È che stavo sparando! Boom! Si è messo davanti! Allora io cerco di aggirarli! Ok? Dal muro! Se non mi vedono! Aspetta che io non vedo più! Mi sparano anche da dietro ragazzi! Mi sparano anche da... Dai! Ok! Come non vedo! Dalle montagne! Dalle montagne ti sparano! Sì! Ok! Eccolo lì! Uno sparava da qui! Uno è lì! Azzurro! Due sono! Blu a terra! Cecchino! Ok! Qualcuno mi aiuti! Arrivo! Vengo io! Sarà una dura battaglia! Buttai clicca! Uno a terra! Qua! Uno a terra! Piano terra! Ok! Ricchiudo la porta! Ragazzi! Se volete vi lascio le munizioni! Io posso piaccere! Sparano da... 3,40! A terra! Uno! Bravo! Ok! Ucciso! Munizioni! Ok! Stai che ora! Sta arrivando gente da... da Luppe e la... Dal fondo! Destra! Qua! 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 C'è uno dentro! Stai io! Bravo! Uno lì ragazzi! Pinga arancio! Dentro la baracca! Una rose! Allora, una finestra a testa! Uno altro è entrato da dietro il muro lì! Si sta avvicinando alla baracca! eccolo ucciso un altro che probabilmente adesso non riesco a guardare full team ragazzi uno qua abbiamo le mille che si soffrono da sopra si si allora uno basta e quanti a terra ha quello alping arancia vedete di le piazze se le avete ragazzi non ne hai più? ok eccole qua adesso dobbiamo uscire tra un po' canio un aranzo ragazzi dietro il canio ecco lì craccati vai 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 io sparo ok 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 non sanno sanno perdere speranno venuti fuori stanno aspettando che si fatti due eccolo lì uno uno è a terra bravo devo fattarsi giusto ci sono l'altro è andato da qui ecco lì uno è blu sono dietro l'altro canio ecco lì guarda venito ok a terra a terra oh mi sparo ok ce n'è un altro ce n'è un altro ce n'è un altro a terra ucciso ne manca uno ne manca uno siamo tre contro uno ragazzi qua a sinistra qua a sinistra ok 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 bravo 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 che ci voleva penso che abbiamo fatto un paio di kill 6, 5, 4 15 kill abbiamo fatto